Com'è andata questa finale? Direi che è andata molto bene, ci sono i primi finalisti e noi siamo partiti con una sconfitta e tutte vinte e 5 kg in meno adesso siamo ci davano tutti i pespacciati però grazie al campione del mondo sono arrivati al finale ci siamo ragazzi ok, tre parole per descrivere questo weekend di torneo? se la vinciamo addirittura è fantastico, ma anche se la perdiamo è fantastico lo stesso e se io dico gioia e dolori, parecchi alle gambe